L'attesa è finita, più di un anno per tornare al mercatino dei bambini a caccia di affari Prima bancarella, la vediamo già lì con due bei album belli farciti E diamo un'occhiata, direi prima di partire dal di là Allora andiamo a controllare, magari comunque di Olo io sto ancora cercando Detective Pikachu Quindi magari posso trovare qui e finirlo al mercatino dei bambini il Detective Pikachu Allora controlliamo quest'album, che comunque comuni, reverse e quant'altro Possono riservare piccole sorprese più che altro le Olo in realtà Le Olo sono quelle che potrebbero Diamo un'occhiata molto alla veloce Comunque per lo più spadescudo di Scarlato e Violetto mi sembra di vedere poco E qualcosina di Pokémon Go Appunto parlando di Pokémon Go ce l'abbiamo qui Questo è ditto non spellicolato Questo può essere interessante, è molto bellina come carta Potremmo quasi quasi anche pensare di prenderla Adesso intanto andiamo avanti e controlliamo Prossima pagina, vediamo se c'è un altro dito non spellicolato Non c'è Allora qui mettiamo via e andiamo a controllare quest'album Ma questa vale per tutte? No vale per le comuni Ah ok ecco infatti dicevo sarebbe troppo bello anche le rare a questo prezzo Diamo un'occhiata, vediamo se iniziamo le pagine delle rare E se magari salto qualcosa di Detective Pikachu Fatemelo sapere nei commenti E dato che siete lì vicino lasciate like Che schifo non fa no? Un like di supporto è troppo rinno Qui abbiamo qualcosa del venticinquesimo di come si chiama del McDonald's Non mi veniva il nome E un YouTube bellissimo qui Ma noi vogliamo le rare adesso Eo adesso iniziamo a ragionare Molto molto bene Allora questa mi interessa Poi vediamo un po' Vabbè il Dioxide CHR ok Qualcosina qui Carte firmate Lo Caesar mi interessa Quanto? Allora iniziamo con le rare a chiedere quanto facciamo Prezzo? Per quella 25 25 Ok lo Caesar? Lo Caesar 15 15 Ci può stare Ci potrebbe anche stare Qui abbiamo vabbò più avanti Bellissima Posso guardarla questa come è messa? Che bella mamma mia Peccato le condizioni Molto molto rovinata Prezzo? Prezzo per quella Sì 30 euro 30 euro? Vediamo Abbiamo anche qui qualcosa di interessante Molto bellina queste comunque E poi vabbò Andiamo Sì 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 Le abbiamo notate queste Però queste no Queste comunque sono originali Allora io qualcosa te lo voglio comprare Però ci dobbiamo mettere d'accordo sui prezzi Magari posso scendere un po' sul Eh quello mi piace molto Perché io gli alleati li colleziono Di quanto? Di quanto puoi scendere? Di quanto tanto? Se vuoi ti posso scendere a? 17 17 euro No è troppo rovinata Troppo rovinata Non ci arriva quello Eh ci stavo pensando sai Vediamo se ho gli spicci Magari posso fare 6 o 7 euro Adesso controllo No per 6 settembre no No 10 minimo 7,50 è la mia ultima offerta Mi spiace No niente L'avevo trovata da piccola Vabbè no ci sta ci sta Non è un problema Vai tranquillo E invece lo Zorark Lo Zorark Mi dà un attimo che devo controllare Perché non mi ricordo Vai pure Mentre guardi il prezzo Allora io do un'occhiata qui al volo Magari esce qualche tesorino Controlliamo se sono tutte Mi sembra sì Sono tutte comuni Sì sì assolutamente Oh c'è qualcosa anche di Folletto Quindi anche qualcosa Della X e Y Probabilmente Sì 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 Queste tutte comuni Di queste qui Penso di avere Potuto A copie esagerate Purtroppo Ok va bene Comunque È un plus Quindi not bad Se vuoi lo Zorark Sì Non posso vendere più 25 euro No Non ci troviamo I prezzi non ci troviamo Se vuoi 20 Ha rovinato Non è neanche gradabile Allora ti faccio una proposta Andiamo su Le AR Magari riusciamo a trattarle meglio Le AR Lo Zizor E il Nine Tails Per 10 euro Sono 5 a testa Niente C'è margine di contrattazione Mi dispiace Non abbiamo trovato Accordi Ciao Ci vediamo più tardi Ciao E niente raga Prima bancarella Purtroppo non abbiamo trovato Accordi Lo so Sono stato un po' tirchio io È vero È vero Ammetto Dimmi La tua Ci hanno chiamato Alla seconda bancarella Per vedere che cosa hanno Di carte pokemon Controlliamo Chi mi fa vedere cosa Cosa controllo Quello quindi prima Bellino quest'album Molto bello Simpatico C'è qualcosa di raro Qua dentro Eh ma qui sono tutte comuni Ok no Qui abbiamo solo comuni Qualcosa di raro Ce l'hai? Eh ma allora Vai fammi vedere Tanto lì Scambio di No Vmax no Grazie Allora V V V ok Vabbè Diciamo Dei giapponesi Ok A quanto le fai le V Le V Un euro Un euro l'una? Te le prendi tutte e due La Vmax a quanto me la metti? Un euro anche quella? Due No due no Hai anche altro lì Quello Di album? Posso guardare? Vabbè vedere Perché? Questa Ma non le tirare fuori Eh non fa niente Le guardo No questa è tritata Questa non è rovinata Questa è proprio tritata Vabbò Tre euro due e tre Sì o no? Va bene Sì? Ok A posto Andata per tre euro due e tre Vediamo se ce l'hai in speech Altrimenti ce l'hai due euro di resto? Che c'ho due euro e cinquanta Ce l'hai? Eh sì Vai C'ho una miriade di bambini dietro Che mi vogliono far guardare le carte Aspetta Mi volevi truffare Questo è fake Allora due euro queste due Dai ce le ho due euro Va bene? Andata? Ok Adesso controllo anche quello Adesso una alla volta facciamo tutto Vedi non ci dobbiamo neanche spostare per i banchetti Fenomenale Perché non facciamo tipo tutti i video così? Allora Intanto io questa quindi le ho prese Chi mi voleva far vedere cosa? Fammi pur vedere Con te L'altra volta ne abbiamo fatte anche troppi di affari Sei fatto su una barca di soldi Andiamo avanti Vediamo qui Allora Bellino questo magneton È distrutto? È un leggero un po' rovinato Va bene ci può stare Tieni meno la parte intanto Intanto contesto già i prezzi Quindi sai che prendo le cose Punto Finito Allora Allora Vediamo un po' Qui abbiamo un po' di GX interessanti Il Raichu Anche questo è tritato? Distrutto? Non lo so se Non mi ricordo Vedere? Forse è un po' rovinato È un po' Sì dai Un po' rovinato Va bene dai ci può stare Poi Il magneton Il Sì sì adesso le controllo tutte Perché Va bene questa può starci Tieni Questa anche Tieni Il Gallade Ci può stare E ci può stare Ok Poi vediamo un po' Cosa abbiamo qua anche Kazam Ok questa è L'avevi presa da me quella Vediamo Controlliamo Anche le full art allenatori Me le fai un euro? Da Quella lì De 50 Allora quante sono Sono 3 3-4 euro Quante sono? 3 1-2 E 3 4 euro 4,50? No 4 euro Dai Adesso controlliamo dai E l'urcifu e il copera già Hyper Nonostante non mi piacciono Cioè questa qua 5 e quella 8 Ok no Quelle no Tanto già non mi piacciono di mio Le Hyper Quindi non le sto Neanche a guardare Bella marotta Distruttissima Vabbè però Ci sta perché è un po' vecchiotta Quindi va bene Controlliamo anche questa No questa è messa bene Allora Facciamo un conto quindi Sono 4 5 6 7 8 9 9 Facciamo 10 tutto? Andata 10 tutto Voilà Ti ringrazio È stato un piacere come al solito Ci vediamo alla prossima Ciao ragazzuoli Ciao ciao Ragazzi Affari effettivamente L'abbiamo fatti Poi tutti gli altri che stavano dietro Sono scappati Però E dal mercatino dei bambini Di Riccione È tutto ragazzi Quindi lasciate like Commentate se volete Un altro video di affari qui Ci vediamo al prossimo video Ciao